La ricerca scientifica, soprattutto quella gastroenterologica, sta studiando in maniera molto approfondita la natura e le relazioni del cosiddetto microbiota, cioè quel mondo di microbi che vive all'interno del nostro intestino e che in linea di massima è un aiuto per la vita di tutti noi, quindi le relazioni tra il microbiota e tutta una serie di malattie, una delle quali sono le cosiddette IBD, le malattie infiammatorie croniche dell'intestino, cioè principalmente il Crohn e la colite ulcerosa. Su questo tema, qui a Torino, all'ottavo congresso di IBD, si è tenuta un'interessante relazione da parte del professor Antonio Gasbarrini, ordinario di gastroenterologia all'Università Cattolica di Roma, che ci facciamo raccontare più da vicino. Senta, professore, innanzitutto, cosa sappiamo sul microbiota, visto che lei è uno dei protagonisti della ricerca italiana e non solo in questo senso? Beh, innanzitutto sappiamo che il microbiota intestinale è quel complesso apparato composto da batteri, miceti e virus che vive nel nostro apparato digerente. Parleremo soprattutto di batteri perché miceti e virus è una delle grandi challenge della ricerca del futuro. Sappiamo quanto sono importanti, ma diciamo le ricerche sono ancora un pochino più sperimentali, ancora non applicate alla pratica clinica. Per quello che riguarda le comunità batteriche, sappiamo che sono a circa 800 grammi un chilo di batteri, che colonizzano l'apparato digerente quando il bibo nasce e sono il cosiddetto serbatoio genico della persona. Cioè noi abbiamo dei geni che ci forniscono i nostri genitori, però questi geni sono fissi, non tengono conto delle difficoltà con cui l'organismo può incontrare nella vita. Questo serbatoio genico cosa fa? In qualche modo pattuglia il territorio. Quindi se un bambino ha un'alimentazione diversa, se vive degli stress particolari, genitori che possono essere conflittuali tra loro, uso di antibiotici eccessivo, il microbiota cambia in continuazione, cambia fino al settimo, ottavo, decimo anno di vita. Una volta che ha raggiunto un suo equilibrio poi ha delle funzioni strutturali enormi, controlla l'immunità, controlla il metabolismo, controlla quello che noi digeriamo, ma soprattutto ci difende dai grandi patogeni. Il problema qual è? Che se il microbiota nei primi anni di vita è strutturato in maniera sbagliata può determinare ad esempio una iperattivazione del sistema immunitario e, o se no, durante la nostra vita, quando la barriera si danneggia, la barriera intestinale, questo può determinare un'eccessiva attivazione immunologica e le malattie infiammatorie croniche per definizione sono caratterizzate da un'alterazione dell'equilibrio tra batteri e sistema immunitario. In qualche modo il muro che separa questi due sistemi si altera e l'immunità comincia ad attaccare in modo perpetuo questo apparato microbico. Perché in questo momento in tutto il mondo dell'EBD sono importanti? Diciamo che questo è quello che abbiamo voluto sviluppare nella nostra relazione di oggi. Ecco, ma quali sono le relazioni tra il microbiota e l'EBD? Cioè il microbiota può far peggiorare la malattia o è il contrario o entrambe le cose? Ecco, sei già riusciti a mettere a fuoco la questione? Beh, innanzitutto, come ha detto giustamente, si può vedere su entrambi i versanti. E' chiaro, ad esempio, che i farmaci che noi utilizziamo per controllare queste malattie, gli immunosoppressori, bloccando la risposta immunitaria, inevitabilmente possono modulare e far cambiare questo sistema microbico che deve essere controllato dall'immunità. Però i dati ancora più interessanti si sono visti andando a studiare pazienti mai trattati, cioè pazienti che hanno malattie all'esordio. Cosa si è visto? Che il microbiota dei pazienti con crone e colitulcerosa è molto diverso da quello dei soggetti di controllo. E' in qualche modo eccessivamente ricco di batteri che determinano una risposta infiammatoria e povero di batteri che determinano una risposta anti-infiammatoria. Attenzione, nel processo di evoluzione dell'uomo non è necessariamente un danno avere un eccesso di batteri infiammatori, perché quando tu hai dei batteri del microbiota molto infiammatori l'immunità è perattivata e nel processo di evoluzione dell'uomo forse questo è quello che ci ha permesso di sopravvivere durante le grandi infezioni batteriche o virali, una volta non c'erano antibiotici e quindi avere un microbiota pro-infiammatorio poteva proteggerci. Ora però si è visto che questo microbiota pro-infiammatorio se avvengono troppi meccanismi di danno o ad esempio se avviene una condizione stressante che determina un aumento della permeabilità dell'intestino e quindi un passaggio di questi batteri pro-infiammatori determina una risposta infiammatoria molto importante e se non ci sono meccanismi di riparazione questa risposta si può propagare. Si è visto in particolare, calcolate quanto sono forti questi dati, che se si trapianta il microbiota di una persona malata in un modello animale sano l'animale sviluppa colitulcerosa, questo vuol dire che si può trapiantare il fenotipo della colitulcerosa con enorme ripercussioni ad esempio anche nelle madri affetti da colitulcerosa che devono crescere i loro bambini piccoli sani. Siete, professor Gasbarini, possiamo modulare il microbiota delle persone con IBD per cercare di riportarlo alla sua natura più fisiologica di un mondo che in generale ci protegge di solito? Beh, sicuramente possiamo modularlo con metodiche molto tradizionali, classiche come la dieta non è un caso che quando uno mangia una dieta povera in proteine animali e molto ricche in fibre indigeribili, verdura, insalata, spesso la frutta, cosa determina? determina la crescita di batteri che fermentano questi prodotti e la fermentazione di questi prodotti porta alla produzione di acidi grassi a catena breve che sono molecole che attivando le T-reg sono molecole anti-infiammatorie, quindi in qualche modo la dieta modula la composizione del microbiota e poi attraverso un effetto metabolico questa modulazione porta a una risposta anti-infiammatoria. I dati poi sono numerosi, calcolate che ad oggi si è visto che quando usiamo un antibiotico gli antibiotici che noi utilizziamo più frequentemente non solo abbassano i batteri ma alcuni antibiotici li fanno alzare perché se abbiamo una classe del microbiota antibiotico resistente, io uso quell'antibiotico, per un meccanismo di equilibrio il batterio antibiotico resistente si alza per cui si è visto che alcuni antibiotici hanno un effetto eubiotico, non antibiotico e poi dati più forti di tutti i modelli di trapianto di microbiota. Si è visto che trapiantando una biomassa perfettamente strutturata, sana, in un soggetto affetto di questa malattia, questo trapianto può portare alla remissione della malattia della colitulcerosa. Quindi è chiaro che è un mondo in continua evoluzione con enormi ripercussioni anche per la pratica terapeutica. Senta, professore, per finire possiamo dare tre consigli pratici alle persone con malattie infiammatorie croniche intestinali, quindi che hanno crono oppure colitulcerosa, per cercare di migliorare la natura, lo stato del loro microbiota? Innanzitutto dobbiamo fare in modo che i cosiddetti influencer, cioè i fattori che modificano il microbiota, siano tutti influencer a favore. Il primo di tutti è avere una dieta estremamente sana, povera in proteine animali, estremamente ricca in fibre vegetali, che sono fibre quindi assorbite solo in parte dal tenue ma superdigerite dai batteri del colon, questo porta alla produzione di molecole estremamente positive, quindi una dieta molto ricca in fibre. Evitare lo stress, perché lo stress, attenzione, questo microbiota è tenuto separato dall'immunità da una barriera, che è la barriera intestinale. Questa barriera può essere però in qualche modo influenzata dallo stress, quindi evitare condizioni stressanti, nella vita questo è spesso impossibile, però evitare stress prolungati, se possibile capire la condizione stressante ed eliminarla. Dormire, perché ad esempio il microbiota può essere cambiato, come la permeabilità con persone che dormono molto poco o fanno esercizio fisico a volte troppo intenso, l'esercizio fisico deve essere in qualche modo modulato sulla base delle capacità muscolari della persona e poi una volta che tutto questo si è realizzato fare in modo di mantenerlo sano, ad esempio, soprattutto quando si è piccoli e quindi il microbiota non è strutturato, evitare un eccessivo uso di antibiotici, che è uno dei più grandi modulatori del microbiota intestinale. Gli integratori servono? Gli integratori sì, però devono essere integratori che portano un valore aggiunto. Il mondo dei prebiotici, dei probiotici, dei postbiotici, della nutrizione, della nutraceutica, dei cosiddetti cibi speciali o novel food è importantissimo, però bisogna utilizzare sostanze con una logica. Va di moda, ad esempio, in questo momento fare le diete low FODMAPS, cioè povere i mono di oligosaccare di assorbibili perché riducono il meteorismo, però attenzione, a volte queste diete fanno sovraccrescere batteri infiammatori, quindi in ogni caso fare tutto sotto il controllo medico.